Ok, a questo punto è giusto fare un ripasso per i nuovi arrivati. Questa rubrica si chiama due centesimi perché nell'inglese americano two cents è un modo per dire che stai dando la tua opinione da uomo qualunque su qualcosa senza arrogarti però verità assolute o cose simili. E io lo faccio perché, come le diligenti verifiche della Guardia di Finanza possono attestare, io pago le mie tasse in Italia fino all'ultimo centesimo. Quindi, cazzo, permettetemi di usarne due per dire la mia su ciò che accade. E quindi ora vorrei rispondere a quelli che dicono fai musica, non politica, penso a cantare. Beh, vi faccio uno spoiler, cari miei cazzoni. Tutto ciò che fate è politica. Andare in bici è politica. Cosa leggete è politica? Che avocado mangiate è politica? Dire non parlare di politica è come dire non parlare e basta, ovvero censurati. Almeno facciamo uno scambio. Se io non posso parlare di cosa accade nel mio paese, almeno toglietemi, che cazzo ne so, gli Anticipiva o Limu, fatemi parcheggiare in seconda fila, siamo pari così, no? Non credo lo preferireste. E non ho finito. Fate swipe come se fosse una figa su Tinder per continuare a sentire.